Il consigliere Michele Doro ha formalmente rassegnato le dimissioni da capogruppo del Movimento 5 Stelle, consegnando il testimone al consigliere Marina Mancuso. In una nota della sua pagina Facebook il consigliere Doro ha dichiarato che è stato un periodo intenso, ricco di confronti che lo hanno contribuito alla sua crescita umana e politica, ma anche pieno di ostacoli che lo hanno tembrato. Continuerà a svolgere il suo dovere di consigliere di maggioranza con impegno, consapevole più che mai del suo contributo alla causa dei 5 Stelle. Dunque adesso l'incarico passa a Marina Mancuso. Sono consapevole della responsabilità che grava su di me e mi auguro che possiamo lavorare non soltanto in piena sintonia ma anche con la collaborazione, il contributo di tutti perché alla fine io sono soltanto un portavoce di quello che è il volere dell'intero gruppo consigliare. auguro a me stessa e a tutti i colleghi buon lavoro e credo che metteremo tutti, così come è stato finora, il massimo impegno per portare avanti questi ulteriori mesi di consigliatura nel miglior modo possibile. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.